Vicentino, ecco l'altra scelta che ho lì è quella che c'è prima della luce, che è su una casa, che è questa casa qua sotto, che probabilmente non si vede la scritta e neanche con ingrandito molto visibile, però questo ci dice comunque che la casa non solo c'era già di fredda, ma non c'era alcuna lì, infatti c'è un bel giardino che esce dall'altra parte, ma quello per cui ho fatto questa diapositiva è il ronno. Siamo infatti in un punto che è stato noto sempre come il Rondò, perché è il Rondò dove il tram 24 faceva il capolinea della ripresa. Il Rondò quindi non è soltanto un ruolo in generale, è innanzitutto un riferimento ai trasporti, e questo riferimento ai trasporti ci dice, come tutte le storie del trasporto ci insegno, che lì finiva la città, perché le linee, i trampiani sul percorso, arrivano là dove finiva l'abitato. Questo ci dice quindi che fin qui, sulla via di Pramonti, e del resto delle case che avete visto, se si muovono, fin già negli anni 30 c'erano la casa, quindi ero già abitata, e se ricordate la crateria che abbiamo visto nel 1883, dove c'erano gli ortagli del 100, significa che questa era la strada veramente importante, perché andavano tutti a abitare lungo questa strada. Il motivo era che semplicemente questa strada portava verso Maria, ma portava anche verso una campagna del sud Milano, quindi era anche comoda, perché doveva poi magari andare a lavorare la campagna, non avendo una fisica. Il rodro ha ospitato, da secoli direi, una delle tante ospedie della zona, qui c'erano altre ospedie della pianta, e poi c'erano altre, porto, ospedie del pesce, tovo, insomma tutte ospedie che hanno fatto sì che l'urro in via di Pramonti fosse facile trovare un posto dove si mangiava bene e si prendeva poco. Posso spezzare una lancia, ma poi arriveremo molti anche adesso, perché io lavoro in via di Pramonti da molti anni, e ancora si trovano molti posti dove si mangia bene e si prendeva poco. E come il nome può tenere perfetto, non posso fare pubblicità, ma ci sono andate lì e vedrete il mio punto di futuro. Ah, ecco, ma è questa sua attività, è il mio lavoro e l'attività. Sì, sì, è il mio lavoro, è il mio lavoro. Quindi diciamo che questa domenica è un simbolo della ristorazione, non è soltanto lei naturalmente, ce ne sono altre, è un'osteria che era quella segnata sulla carriera del Claricio, ricordate che c'è scritto Osteria, ecco, che era l'Osteria Vigorelli, che è quella cascina di Vigorelli, chiamata cascina di Vigorelli, ma è verità Osteria Vigorelli, che è rimasta in funzione con questo nome fino a 6 o 7 anni fa, poi ha cambiato due volte la gestione, non è verità, adesso è rimasto diverso. Quello che è rimasto interessante però è che oltre alla cascina di edificio, come è l'edificio di fianco, c'è uno splendido tramvino, che lo potete vedere qui a fianco a sinistra, vedete tutta quella parte verde e una parte a terra, adesso c'è dentro un di gazzetto, ma comunque è un gioco che risale a quanto tempo fa. Questa cascina di Vigorelli, come vedete dal fatto che dietro ci sono soltanto i palazzoni in Vigorelli, vuol dire che stiamo uscendo dalla città, qui siamo nell'area che dovremmo chiamare Marco Sud, che invece chiamo di Cristopoli, perché come sempre sapete che il terreno non è senso comunale, ma è senso di imprenditore privato, ci ha costruito, qualche volta abbiamo un po' derogato, abbiamo stato da tribunale, di fronte a questa stessa cascina c'è l'altra cascina, la cascina a Pozzuolo. La cascina a Pozzuolo, che ha scritto a futuro anche in un locale di ristorazione, che però non la conosco, anche perché credo che si è aperto e provato la stessa, è importante dal punto di vista storico perché era la stessa del comune di Vigentino, in pratica era la vicenda. Questo perché Vigentino era naturalmente un luogo spasso, molto lungo le campagne, quindi in questo posto in particolare, essendo sulla strada di Vigentino, potevano ancora ricorrersi un po' di vari settore. Il comune, come tutti i comuni, sapete nel 1923, adesso è avvenuto il comune di Milano, aveva poi spostato la sua sede in un edificio che era di fronte al bar Rondò, che abbiamo visto prima di Provinano o dopo. Quell'edificio è stato un po' guardato durante la secolta guerra mondiale e ha sopposti sotto alla scuola, che è tutt'ora questa. Anche poi ho spiegato i carabinini, che adesso non credo sia tutta la scuola, io mai sono perso l'università. Ma queste sono modificazioni che avvengono praticamente ogni cinque anni per cui non è caduto di soffermarsi. La storia dice che lì c'erano i cinque e questa è l'ultima cosa, diciamo, storicamente arrivata. Anche quindi da Vigorelli era un osteriere, c'è lui e poi anche a Cacchina, che sono diventata un ristorante. Quindi questa è una caratteristica di tutta la via, perché il motivo è semplice, se avete presente tutte le strade consolare che si muovono, per loro padano, pensate anche alla povolese, e all'azio di Cremona, sono costellate puntellate di osterie e infattorie. E' scusa, perché è la sua seconda osteria? Sì. E' diversa qua sulla destra. Fino a un po' di anni fa si chiamava lui di... Sì, esattamente, esattamente. Infatti, come ho detto, non faccio i nomi di caricare vero, tra l'altro ha cambiato gestione. E ricordo anche che avevo avuto dei problemi con la malavita e si era ribellato e aveva vinto. Poi però ha cambiato gestione, quindi avevo avuto la problematica come sempre in questi casi. E' una storia volente, appunto, di questo film.